Oggi andremo verso il Monte Cavornia. Grazie a tutti. Ecco Silvia in perterrita con alle spalle il sentinello e tutta la valle Maglielama. Eccoci qua in un piccolo fuorisentiero che ci porta alla selletta da dove attaccheremo l'attacco alla vita del Cavornia davanti a noi. Eccoci qua in Aguila. Che spettacolo ragazzi. Che spettacolo ragazzi. In prossimità della Croce. Ed eccoci arrivati in vetta alla montagna gemella cosiddetta del Velino, il Monte Cavornia. 2004 e 24 ragazzi. Che spettacolo. Davanti a noi, sua maestà, il Velino. Una bellezza veramente entusiasmante. Che spettacolo. Che spettacolo. Che spettacolo. Che spettacolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed eccoci di ritorno dalla escursione in vetta alcafornia, molta afa in questo momento. Siamo quasi giunti alla fine dell'escursione. Ecco Silvia che mi sta raggiungendo. È un'escursione fantastica, veramente un'ascesa alcafornia favolosa. Eccoci alla fine dell'escursione con le mucche sotto il caforia. Fine escursione. Veramente splendida. Grazie a tutti.